Cosa ci fa il fauno Barberini nella mostra di Canova? Tanto che cos'è il fauno Barberini? Il fauno Barberini prende il nome della grande famiglia romana Barberini che l'ha avuto naturalmente nella collezione. A un certo punto viene venduto alla fine del Settecento, come tante altre opere. E quando Canova diventa ispettore di tutte le belle arti a Roma e nello Stato con il potere di vietare l'esportazione delle opere d'arte dice no, quest'opera deve restare a Roma perché è un'opera importante, unica, straordinaria. Quindi niente esportazione per il fauno. Sembrava che la cosa fosse, diciamo così, decisa. Purtroppo il Papa, che aveva promesso di comprare il marmo non lo compra per i musei vaticani. Qui uno potrebbe dire perché non lo compra. A un certo punto pareva che il Papa comprasse volesse comprare il fauno Barberini per i musei. Ci si può domandare perché non l'ha comprato. Certo, le finanze non erano al massimo in quel periodo lì siamo i primi dell'Ottocento poi arrivano i francesi a Roma, no? Dal 9 al 14 la città, diciamo, perde il prestigio, la potenza, eccetera. Il Papa va in esilio. Però qualcun altro potrebbe anche dire che non lo ha comprato perché effettivamente il fauno Barberini, diciamo, ai musei vaticani sarebbe un po' forte come opera, diciamo, no? Così, guardiamola. Perché è di una sensualità veramente eccezionale. Inutile che neghiamo quello che si vede. A un certo punto Canova pensava di essere a posto ma è successo l'impensabile, cioè nel 1819 l'imperatore d'Austria, Francesco I, viene in visita a Roma. Purtroppo perché la moglie era una Wittelsbach, Baviera e il fauno era voluto fortissimamente da Ludwig I di Baviera, il nonno di Ludwig II, quello più famoso. Il bello è che Ludwig I era molto amico di Canova, gli ha fatto fare due statue a Canova che stanno a Monaco e Canova non ha esitato a rompere un'amicizia importantissima per difendere quest'opera d'arte. Appunto però arriva l'imperatore che è suo cognato. La moglie era Carolina von Wittelsbach. E lui dice all'imperatore, chiedi a Pio VII il fauno Barberini per me. E quando l'imperatore è in udienza dal papa glielo chiede e Pio VII non può dire di no. E quindi il fauno è partito per Monaco di Baviera dove si trova naturalmente anche adesso. Allora, questa presenza del fauno che cosa vuol dire? Vuol dire Canova che difende il patrimonio artistico di Roma e in questo caso Canova che deve ingoiare un rospo. Infatti questa sezione si chiama una battaglia perduta.